Io rappresento i cittadini e la città di Arezzo e penso che questa vicenda di Banca Etruria per come si è configurata e soprattutto per come è stata veicolata sui mezzi di informazione abbia portato un forte documento ai cittadini. Dopo la decisione del gruppo del Tribunale di Arezzo Giampiero Borraccia di non ammettere come parte civile il processo relativo al crack di Banca Etruria ai comuni di Arezzo e Castiglion Fiorentino assieme all'associazione di consumatori il sindaco Alessandro Ghinelli annuncia l'intenzione di presentare nuovamente la domanda nella fase del dibattimento. L'immagine stessa della città è stata fortemente deteriorata e quindi un danno di immagine ma anche un danno patrimoniale perché le nostre aziende hanno avuto una riduzione di chance nel proporsi con contratti nei confronti dei loro partner usuali anche per la mancanza di un partner economico e finanziario come era Banca Etruria e anche per questa immagine negativa della città. Io potrei portarvi copie del Corriere della Sera di Repubblica del giornale nelle quali Arezzo, proprio Arezzo, è dipinta come una città ben o male di banditi o di allocchi, cosa che ovviamente non è. E quindi riteniamo che il danno di immagine addirittura sia preponderante rispetto al danno patrimoniale ed è per questo che abbiamo, sentite gli avvocati, proposto la Costituzione di parte civile. Il giudice per le udienze preliminari ha messo tutti circa 2.500 risparmiatori azzerati escludendo unicamente gli enti. Ha fatto una divisione manichea, gli aventi titolo diretto sì, tutti gli enti no e quindi ci ha accomunato ad altri e ci ha tenuto fuori da questo che secondo me però è un diritto e quindi lo riproporremo alla prima occasione utile.